ciao a tutti volevo ricordare come tutti gli anni che da ottobre riprenderanno i miei corsi di percussione e alpanti i corsi sono lezioni singole di gruppo in presenza e online potete trovare nelle location di cesena cesenatico forlì e forlì per ulteriori informazioni potete contattarmi su messenger quindi a presto e vi auguro buona musica a tutti grazie 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 grazie